Trova il tuo comfort in ogni spazio con IDRA Più di 100 operatori a vostra disposizione Specialista nell'arredo bagno con le soluzioni Ideal Standard Nel riscaldamento con sistemi Baxi Nei corpi scaldanti dell'Unchi Nel settore clima con Mitsubishi Nel trattamento dell'acqua con gel e dei fumi con termico Con IDRA il comfort del tuo domani inizia ora!